Soffiano venti di crisi nell'ambito dell'editoria libraria tradizionale, lo si vede dalle notizie che vengono dalla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, lo si legge dai dati che ha comunicato l'Associazione Italiana degli Editori, grande flessione nelle vendite dei libri tradizionali e dei palpiti di crescita per quanto riguarda l'e-book, per quanto riguarda l'Italia, perché per il resto del mondo la crescita è decisamente più marcata nell'ambito della vendita degli e-book. Lo spazio di questi miei interventi quotidiani è molto esiguo, mi limito semplicemente a lanciare una riflessione e se qualcuno vuole continuarla batta un colpo. Non vi rendete conto, cari colleghi dell'editoria tradizionale, specialmente quelli della media piccola e piccolissima editoria che per sopravvivere vi state sempre più buttando in quello squallido sport che è la pubblicazione dei libri a pagamento? Questa secondo voi è editoria? Non vi state rendendo conto che forse bisognerebbe ragionare a fondo su che cos'è fare l'editore oggi in Italia?